Ciao a tutti, nel video di oggi andiamo ad aprire la nuova serie di Harry Potter della Kinder Joy con i mini Funko Pop L'ha comprata Danilo, il fidanzato di mia sorella Alesse Lunga, o non so dove, dove eravate? Alla Coppa Alla Coppa, ok E vogliamo testare un video di TikTok dove facevano vedere dei codici degli ovetti E ogni codice lo associavano a un personaggio Vediamo se è una fake news o se è la verità E' un esperimento scendibile Comunque ci sono un sacco di nuovi mini Pop E vediamo un po' chi troviamo Questa è la confezione, è Bordeaux stavolta Allora, in teoria il codice si legge qua sotto? Yes Questo sarebbe? Sì Quindi 22S2 Allora, infatti allora c'è qualcosa, o non l'aveva trovato Secondo me non è un Pop perché fa troppo rumore Comunque nel video questo non c'era E quest'altro invece è 23S2 Non ce l'abbiamo neanche Neanche questo ce l'abbiamo Quindi diciamo il video non possiamo testarlo Vediamo solo cosa troviamo Possiamo solo confermare che non sia un Pop Allora Allora Ok Speriamo che ci sia almeno un Pop Sì Abbiamo trovato Ron Tu ce l'avevi Ron? Ce l'avevo segnato con il 46S2 46S2 l'aveva segnato Qua è 22S2 Fake News Non vi fidate del video del tipo Ok, questa è la checklist Ce ne sono tanti Allora, c'è Madame Boom Hermione con la sciarpa Luna con la corona dei Grifondoro Silente Pito Nagrid Erry Ginny Questa penso sia Cho Erry Oro Cedric Ron E Malfoy Ne sono tanti Forse di più dell'altra E noi abbiamo trovato Ron E' fatto così Dopo lo vado a montare Ed è carino Bello Vediamo il secondo Fa meno rumore Ma forse Potrebbe essere un pop Anche questo Ok Vediamo Erry Oro Quindi tu ce l'avevi come? Allora Ce l'avevo due codici 39 e 47 Allora Al 39 e 47 Si aggiunge quello nuovo Che è Il 23 Noi l'abbiamo trovato Il 23 Comunque due pop Grande scelta di confezione Complimenti Danilo E' tanto una botta Eccoli qua E' fatto così E in mano C'ha il boccino d'oro Non so se lo riuscite a vedere Spero che il video Vi sia piaciuto Nel caso mettete un like E iscrivetevi E alla prossima Ciao Saluta Danilo Bella Ciao Ciao Ecco un altro video Sui Funko Pop Degli ovetti Kinder Joy Vediamo In quest'altra Seconda parte Del video Se troviamo Qualche altro pop Forse qui Non c'è nulla Vediamo Allora Questo è il codice Penso sia questo 3 Vediamo Sì Qui non c'è nulla Infatti Abbiamo trovato Questo A tema Quidditch Ed è Una sorta Di portachiave Penso Eccolo qua Sì Allora Bisogna inserire Sono questi Qui Vedete Allora Vado a mettere Un attimo L'adesivo Allora Voglio cercare Di essere Preciso Più o meno Qui c'è il boccino D'oro E qui c'è Erri Con i tre anelli Del quidditch Qua vedete Si può mettere Tipo portachiave Simpatico Preferisco E pop Ma comunque Carino Qua Da rumore Sembrerebbe Un pop Ma Non ne sono sicuro Vediamo Forse no Questo Scusate Era il numero 27 S2 Spero In luna Tra tutti E pop E invece Abbiamo trovato Ermione Che comunque Mi mancava Quindi Non fa nulla Eccoli qua Tutta la checklist Vedete La mia preferita Sono Luna La professoressa Forse Agrid E silente Comunque Abbiamo trovato Ermione Vado un attimo Anche qui A mettere Il gancino Allora Ce la posso fare Ok Facciamo il nudo E poi E poi Andiamo a chiudere In realtà È molto simile A quella Della scorsa Espansione Che forse Ho qui Che avevo trovato Tante volte No dai Un po' diversa Stavolta La sciarpa E niente Questa mi mancava Abbiamo trovato Un altro pop Quindi Meno sette Me ne mancano Spero che il video Vi sia piaciuto E alla prossima Ciao Ciao